Perché l'Italia ha comprato moltissime dosi in previsione di farne tante e perché il Green Pass naturalmente è anche vincolato a queste vaccinazioni. Quindi il rinnovo della patente di libertà è dovuto da quanto noi poi ci sottomettiamo al sistema. Mi ha parlato tanto di Roberto Speranza che è una persona che arriva da scienze politiche, però forse tanti non sanno il potere che ha quella persona. Nessuno si fa le domande di come mai un partito come l'EU che ha forse una sede, probabilmente una sede a Roma e non ha alcuna presente in alcuna regione, sia al centro di questa situazione, sia inamovibile. Draghi non ha mai parlato male di Speranza, anzi ha sempre fatto plausi per il suo operato e quindi mi farei qualche domandina su chi c'è dietro a Roberto Speranza. Questo bel viso da Boy Scout probabilmente si chiama Fabian Society. Io abbiamo fatto una puntata su ciongioneleoni.it, potete trovarla tranquillamente con Davide Rossi che ne parliamo approfonditamente. Quindi forse è ben da capire dagli abbagli dei media e dei mass media forse che dietro le trame sono molto più sofisticate di quelle che crediamo. Quindi questi dosaggi, queste quarte dosi, probabilmente sono decise all'alto, non c'è alcuna razziocina, non c'è alcuna competenza tecnico-scientifica in queste decisioni. C'è solo tanta sottomissione a dei poteri. Probabilmente noi parliamo di governanti, a me viene da pensare che sono governati più che governanti. Grazie.